Prima vittoria esterna della stagione per la Leofilcam Roseto e seconda vittoria consecutiva bei due punti presi al Palavirtus di Cassino, quattro punti in classifica per la Leofilcam Roseto si cominciano già a vedere però dei segnali positivi rispetto all'inizio Sì assolutamente, nelle ultime due settimane abbiamo fatto veramente un buon lavoro e quindi poi prima o poi i frutti vengono fuori il nostro obiettivo soprattutto in questo momento è costruire abbiamo bisogno di costruire e per farlo dobbiamo avere tanta tolleranza soprattutto negli errori, nei momenti a vuoto e nei passi falsi quindi noi lo sappiamo, dobbiamo avere pazienza, la società lo sa, siamo tutti consapevoli e quindi ecco quello che dobbiamo fare è costruire, lavorare in settimana e poi provare a vincere partite ma l'obiettivo rimane arrivare sempre tra le prime quattro però dobbiamo arrivarci in un certo modo costruendo e inserendo tutti gli 11 giocatori che abbiamo a disposizione Ecco, segnali di crescita che si sono visti soprattutto dal punto di vista offensivo Ma sì, abbiamo fatto sicuramente una partita migliore dal punto di vista offensivo ma sono convinto che la vera differenza l'abbiamo per l'ennesima volta fatta in difesa abbiamo subito 38 punti in 30 minuti quindi abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro abbiamo annullato dal campo completamente Guy, tirato 2 su 15 dal campo con dei tiri assurdi quindi abbiamo fatto veramente un ottimo lavoro e questo ci ha permesso anche di fare dei punti facili in contropiede che ovviamente aiutano soprattutto in questo momento quindi sono contentissimo della prova che abbiamo fatto sabato in questo momento non possiamo fare nulla di meglio e quindi sono contento che i ragazzi abbiano fatto il 110%